Godersi anche i momenti più noiosi, godersi i momenti che ci sembrano che non insegnino niente e invece anche quelli hanno in sé la creatività per il momento successivo. Non ho senzio nessuno che faceva wow, ah? Ci è mancato, ragazzi, dai! La vogliamo provare? Va bene, no. Proviamo, proviamo tutto, ci siamo. La togliamo, no? Sì. Proprio quegli anni lì. Pallina, sì.